Annulla il consumo di PA nel bus? Ma certo, la beviamo e niente, ci annullerà il consumo di PA per almeno 10 secondi, che ci permetterà di buttare giù un boss in un attimo. Ecco, state a vedere cosa sto per fare a questo. Uso la magia e niente, consumo PA, ok? Per almeno 10 secondi, potevo usare qualsiasi arma, ma ho voluto usare questa tanto per cazzeggiare su di lui, perché veramente questo mi sta sulle palle. La stessa cosa anche con il gigante, ho usato questa mossa della cometa di Azor, guardate un po', ho messo un consumo di PA. Recarciparlo qua e proseguire da questa parte salendo qua sopra. Un'altra cosa, miei cari, dirigetevi qui, su questo precipizio, proprio sempre più avanti, scendete giù, esplorate un po', e avete fatto. Prendete quelle scalinate, prendete il ponte, salete qua, scendete là sotto vicino alla villa Vulcano, proseguite sempre più avanti, adesso io velocizzo il video per farvi capire dove andare, quindi ci vediamo direttamente lì a uccidere quella bestia. Una volta uccisa questa bestia, vi darà quella lacrima, da aggiungere nel balsamo, così voi la prendete, niente per 10 secondi oppure di più, vi annulerà il consumo del balsamo di PA, quindi molto semplice. Quindi ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina, lasciando anche like, se il video vi è stato utile, quindi guardate un po' quanto dura questo raggio, state già con tanto? Sì, secondo me state già con tanto, dura parecchio, quindi grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!